Ciao carini nipoti, oggi ci vediamo un'altra clip sui Ferragnes, poi vedremo l'avvito, ve l'ho messa a metà, per ora c'è Edo, in braccio alla mamma, ha fatto il vaccino, infatti un po' spaesato. Adesso arriva Chiara, poi con Leo. Guys, voglio vedere ancora chi non dice che Leo è identico a me da piccolo. No, no, guardate, Leo, Chiara. Questo è Leo. Chiara. Questo sono io. Cioè, sembriamo la stessa persona. La guarda, la guarda, la porta Vitto, la porta. Tu sei farla Vitto? Ma non è vero! Bravo! Ma guarda, avevi solo fatto così e poi un'altra dita la bevi in mezzo. Tu sei farla Vitto? Tu la sai fare? Ma che? Bravo! L'ho fatto tutto. E qua c'è Valentina, è in adiv... per Pinco non chiedetemi dov'è. È sicuramente in un posto di mare e qua pedala tranquilla con la sua bella bicicletta, sempre bellissima Vale.